Musica Continuiamo a parlare di donazione e conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale e ne parliamo adesso con il dottor Alessio Trevisani, biologo molecolare all'Università Tor Vergata di Roma. Allora, dottor Trevisani, che cosa sono le cellule staminali? Le cellule staminali sono cellule indifferenziate, capaci di autorinnovarsi e di dare origine a eventualmente qualsiasi cellula di ogni organo o tessuto. Per questa ragione sono molto importanti perché appunto sono quei mattoncini che danno origine a noi stessi. Abbiamo parlato prima, almeno sentivo dire, di staminali mature e immature. Qual è la differenza e quali vengono utilizzate oggi? In realtà sarebbe più corretto parlare di staminali embrionali e staminali adulte o cordonali. Staminali embrionali sono affascinanti, molto importanti dal punto di vista della potenzialità, soprattutto differenziativa. Tuttavia per essere ottenute deve essere manipolato l'embrione, quindi è chiaro l'aspetto problematico dal punto di vista etico. Le staminali del cordone invece sono raccolte dal sangue del cordone umbilicale, possono essere raccolte ovviamente una volta sola nella vita, quando il bimbo nasce e non genera il loro utilizzo o problemi di natura etica. Le staminali adulte invece sono contenute in qualsiasi organo o tessuto dell'individuo adulto e anche il loro utilizzo ovviamente non è vincolato a problemi etici o legali. Ho sentito prima dire appunto da lei che comunque le cellule presenti nel sangue del cordone umbilicale non sono uguali per tutte le donne, c'è chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Quante servirebbero per donarle? Le banche pubbliche raccolgono generalmente dai 60 ml di sangue cordonale in su. In realtà il numero importante di cellule presenti è appunto il numero di cellule CD34, ovvero di staminali. Chiaramente per sopperire a scassi numeri di cellule staminali sono in corso indagini sperimentali per espandere in vitro il numero di cellule raccolte. E vi sono già diversi studi clinici in corso in questo senso. Quali sono le patologie ad oggi che si possono, si potranno curare con le cellule staminali? Rimaniamo quelle che ad oggi possono essere trattate con le staminali del cordone. Sono le oltre 80 indicate nel decreto ministeriale del 18 novembre 2009. Attualmente tra l'altro un paio di mesi fa è stato fatto un addendum che aggiunge ulteriori tre patologie. Queste sono le patologie appunto stabilite dal ministero. In corso sono numerosi studi clinici per estendere ulteriormente l'uso delle staminali del cordone in area neurologica, cardiovascolare o oncologica. Tuttavia fino a che non siano esiti di questi studi clinici non si può parlare assolutamente di un impiego terapeutico di queste cellule in quello che al momento non è gnoto. Dottor Trevisani, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.